Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi siamo qui con un nuovo tutorial, oggi parleremo di come tirare a giro. Allora, prima di tutto parliamo della rincorsa. Prenderemo 3-4 passi di rincorsa a 45 gradi rispetto al pallone. Il movimento sarà con l'interno del collo, andremo a colpire il pallone più o meno al centro, leggermente più a destra se siamo destri. Se invece siamo mancini andremo a colpire la palla leggermente più a sinistra e il movimento verso il pallone sarà questo. Allora, nel tiro d'esterno andremo a prendere una rincorsa simile a quella del tiro a giro normale, con la stessa angolazione, però con più potenza, perché tireremo appunto d'esterno. Ora andremo a vedere come impattare la palla. Nel mio caso io calcerò di destro, quindi colpirò il pallone nella parte sinistra. Ecco un buon esempio di tiro d'esterno. Il pallone nel pallone lo difende, Ronaldo, doppio rimpallo, Cristiano! Rata! Rata! La spagna vai! La spagna vai lui! La spagna vai! Due a zero! E c'era qualcuno che lo contestava? Rata! 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 Rata!